Sono la nuova speranza per debellare il virus dal principio. La sperimentazione degli anticorpi monoclonali, avviata ieri per la prima volta a Marche Nord su pazienti contagiati e fragili, rappresenta un grande passo avanti. Nelle Marche, dopo l'ok di AIFA, sono arrivate 133 sacche, tre delle quali sono state appunto utilizzate ieri all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Un record assoluto. Con questo farmaco noi abbiamo un'arma terapeutica in più da destinare a quei pazienti particolarmente fragili con un alto rischio di evoluzione verso una patologia particolarmente impegnativa in cui oltretutto sono presenti controindicazioni agli attuali farmaci disponibili per la fase di infezione. E quindi possiamo bloccare questa patologia all'esordio dai primi sintomi destinando, ripeto, questo farmaco a pazienti che altrimenti evolverebbero verso una situazione particolarmente critica in cui abbiamo pochissime armi terapeutiche. Ci sono degli anticorpi che sono stati costruiti in laboratorio che hanno un obiettivo unico, quello di andare a neutralizzare la proteina S che è la chiave che il virus usa per penetrare nelle nostre cellule. Se noi intorno a questa chiave mettiamo una specie di cappuccio, questa chiave non serve più, non funziona e il virus non riesce a penetrare più nel nostro organismo. E la malattia che è lieve in questi casi rimarrà sempre lieve, non si complicherà. Quindi sono stati fatti in questo senso, saranno fatti dei passi avanti possiamo dire? Assolutamente, sono dei passi avanti. Questa rappresenta la prima vera terapia per il paziente non ricoverato. Non avevamo prima farmaci decisivi, adesso avevamo un farmaco decisivo. La quantità di farmaco a disposizione non è enorme, per cui noi abbiamo riservato, secondo le direttive dell'AIFA, questo trattamento a dei pazienti fragili che pur avendo una malattia di forma lieve potrebbero sviluppare a nostro parere una malattia estremamente severa. Una rassicurazione da parte del dottor Frausini anche sul vaccino AstraZeneca. È stata una bolla di sapone, AstraZeneca è un vaccino che deve essere fatto. Vacciniamoci per arrivare il prima possibile tutti a questa immunità di gregge che ci terrà fuori finalmente da questo maledetto incubo.